L'uomo alato la osservava con dolcezza, riccioli morbidi, dorati e brillanti, come i raggi del sole gli cadevano sulle spalle. La pelle chiara, punteggiata da una bianca peluria, lasciava posto poco a poco a lunghe piume amarezzate. Alla ragazza, per lo stupore, era caduto il mazzo di fiori, che ora giaceva sul sentiero polveroso. L'uomo alato si abbassò per raccoglierlo e lo porse a Maria. Lei continuava a rimanere immobile, incapace del più piccolo movimento. Era una ragazza giovanissima, appena uscita dall'infanzia. Abitava nella città di Nazareth, poco distante da lì. La famiglia l'aveva appena promessa in sposa Giuseppe. Non temere, le disse l'uomo alato. Sono venuto ad annunciarti una lieta novella. Tra qualche tempo sentirai crescere in grembo un figlio e dopo qualche tempo ancora partorirai. Al bambino darai nome Gesù. Ora ascoltami bene, il bambino che porterai in grembo sarà il figlio di Dio, il figlio di Dio sulla terra. Ma com'è possibile, murmurò Maria, se non conosco nessun uomo. Devi sapere, Maria, che nulla è impossibile per Dio e che a partire da oggi non hai più nulla da temere perché ti prenderà sotto la sua ombra. Ancora una volta la fissò a lungo, sorridendole. le posò tra le mani i fiori bianchi, poi con gesto dolce prese slancio, spiegò le grandi ali e volò via. Quando fu soltanto un punto minuscolo nel cielo, Maria era ad uno ai fiori. Quel che provava era indicibile. Avrebbe dovuto essere terrorizzata, terrorizzata da quell'apparizione, ma anche da quel che Giuseppe e la sua famiglia avrebbero pensato. L'avrebbero forse ripiudiata ora che portava in grembo il figlio di un altro, eppure rimaneva lì, a contemplare l'uomo alato svanire tra le nuvole. Rimaneva lì, col mazzo di fiori in mano, e anche lei sorrideva. Non aveva ancora compiuto quindici anni, era appena uscita dall'infanzia e portava in grembo il figlio di Dio.